12 chili di eroina purissima sono stati sequestrati dalla guardia di finanza Sansevero nell'ambito dell'operazione Greenhawk che ha portato all'arresto di tre presunti trafficanti di droga. Si tratta di uno dei maggiori sequesti di eroina eseguiti nell'ultimo periodo. Da tale quantitativo infatti si sarebbe potuto ricavare 30.000 dosi che una volta immesse nel mercato illegale dello spaccio avrebbero fruttato all'organizzazione criminale circa un milione di euro. In manette sono finiti il 38enne Alessandro Buonaventura di Sansevero e i cittadini albanesi Eloyans e Orgetuscia tutti dovranno rispondere del reato di traffico di droga. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato dalle fiamme gialle insieme alle autovetture dei tre uomini arrestati in flagranza e ai sette telefoni cellulari in loro uso. Da tempo i finanziari di Sansevero stavano monitorando un fondo agricolo in agro di Sansevero interessato da frequentazioni sospette e dalla presenza continua di autovetture intestate a pregiudicati per reati in materia di stupefacenti. Lo scorso 22 luglio i finanziari hanno fatto irruzione nel fondo e hanno individuato tre uomini che alla vista dei militari hanno cercato di far perdere le proprie tracce. In una delle autovetture immediatamente perquisite, quella di Orgetuscia, i finanziari hanno rinvenuto all'interno di una sacca in tela 20 panetti avvolti da cellofan contenenti eroina purissima per 12 kg. I ciascuni involucro evidentemente per sviare i controlli dei unità cinofile sono state rilevate tracce di gasolio. L'operazione conferma l'esistenza di un fiorente traffico di eroina con la collaborazione della criminalità albanese. In linea generale la sostanza stupefacente prodotta in Turchia raggiunge il paese via mare attraverso il canale di Otranto o via terra lungo la cosiddetta rotta balcanica.